L'arte curiosa. Questa magari la sapevi già, o forse no, chissà. Piccole pillole di curiosità che spero non sembrino supposte. Simboli e significati nascosti, interpretazioni e spiegazioni sull'opera. Quella cosa particolare sull'artista e magari sul fatto insolito legato a quella determinata opera d'arte. Ah, già che ci sei, iscriviti al mio canale, dai 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 dai, ti prego, ti prego, ti prego, grazie. Guernica. Per la maggior parte delle persone Guernica è l'opera di Picasso, immensa. 351 cm x 782 cm, olio su tela. Attualmente espossa a Madrid, al Museo Nazionale Centro d'Arte di Regina Sofia. Nel corso dei secoli questa stessa opera è diventata anche il simbolo dell'orrore della guerra, di tutte le guerre. Ma vediamo di saperne qualcosa in più. Guernica, la città basca, che è stata la prima in assoluto a subire un bombardamento aereo, esiste davvero e c'è ancora. Il 26 aprile del 1937 era giorno di mercato. Nella piazza bombardata c'era meno gente del solito. Gli uomini e del resto erano già a combattere, il fronte della guerra era vicino. Il bombardamento congiunto delle forze aeree tedesche e italiane distruggerà il 90% della città, uccidendo centinaia di persone. Ma nel corso degli anni la città è tornata a vivere ed è stata ricostruita. Pensate, il mercato storico c'è ancora. Da 5.000 abitanti del 1937 sono arrivati agli attuali 16.000. L'albero di quercia del 1700 era sopravvissuto anche al bombardamento. Ora però rimane solo un tronco secco, è stato ucciso da un fungo nel 2015. Ma ovviamente un simbolo non si può perdere così e quindi è stato ripiantato. Ma torniamo alla nostra opera. Nel gennaio del 1937 Picasso è già Picasso. Insomma, è il pittore spagnolo famosissimo che ancora oggi noi conosciamo. Vive a Parigi ed è proprio lì che riceve la commissione per la realizzazione di un'opera addirittura dalla Repubblica Spagnola. Nella capitale francese, infatti, a luglio, ci sarà l'Expo. La Spagna deve assolutamente essere rappresentata da un'opera di Picasso. E l'artista si mette al lavoro senza però troppa ispirazione. Fa qualche bozzetto, riceve anche pressioni perché si dà una mossa. Insomma, l'Expo è alle porte. Il 26 aprile, in piena guerra civile spagnola, la legione Condor tedesca, con la partecipazione dell'aviazione legionaria italiana, in supporto al generale Francisco Franco delle truppe nazionaliste, bombardano Guernica, cittadina basca, nella regione della Biscaglia. Le forze repubblicane, formate dai nazionalisti baschi, da battaglioni delle Asturie e di Santander e da formazioni comuniste, combattevano al fronte che si era avvicinato pericolosamente alla cittadina di Guernica, pensate a soli 10 chilometri. Distruggerla, quindi, significava allevare eventuali possibilità di aiuti e rifornimenti alle truppe repubblicane. In pratica, però, in città ci sono solo donne e bambini. Tutti i giornali dell'epoca parleranno di questo massacro. Picasso verrà quindi a conoscenza di questa tragedia attraverso i giornali dell'epoca, in bianco e nero, e, sollecitato dal suo amico, il poeta Juan Larrea, Picasso troverà finalmente il soggetto perfetto per la sua opera, che terminerà praticamente in poco più di un mese. Pur, lavorando in maniera rapidissima, decise di documentare la nascita della sua opera e chiamò la fotografa Dora Mar, la sua nuova amante, a fotografare tutte le fasi del lavoro. Durante le sue ore di lavoro ricevette anche la visita di amici e colleghi, come Giacometti, Max Ernst, Andre Breton e anche altri. Di fatto, questa trovata fu quasi un'operazione pubblicitaria. La sua opera era già famosa prima ancora di essere finita. Terminata e arrotolata a metà giugno e consegnata al padiglione spagnolo, avrebbe dovuto essere esposta il primo maggio, proprio per la festa del lavoro. Ma gli scioperi proprio dei lavoratori, con scontri fra manifestanti e polizia, ritardarono l'inaugurazione fino al 24 maggio, con soli 5 padiglioni realmente agibili su 42 e addirittura senza luce elettrica. Insomma, come inizio, questa expo partiva malino. La Spagna repubblicana riusciva quindi ad inaugurare il suo padiglione solo il 12 luglio, in una posizione pessima. Da un lato il padiglione della Germania nazista, progettato dall'architetto Albert Schperr, e dall'altro lato il padiglione del Vaticano, con all'interno un murale dedicato a Santa Teresa d'Avila, patrona dei martiri franchisti di Spagna. E cari miei, la prima esposizione del capolavoro di Picasso fu un vero e proprio fiasco. Non era l'unica opera esposta, il padiglione era ricchissimo di opere d'arte, e venne per giunta, piazzata, con proprio di fronte una fontana pazzesca, al mercurio di Alexander Calder, che faceva riferimento alle miniere di Almadena, una concorrenza quasi sleale, che venne sottolineata addirittura dalle Corbusier, che notò come il pubblico fosse quasi sempre girato con le spalle verso Garnica, proprio per godersi gli spettacoli che si tenevano tutti intorno. Puntuali e previste arrivarono l'espressione di disprezzo contenute nella guida tedesca all'Expo, che prese anche un po' in giro il padiglione spagnolo per la sua povertà, mentre Garnica venne liquidato come un guazzabuglio di parti di corpo che anche un bambino di quattro anni avrebbe saputo dipingere. Il problema è che non piacqua nemmeno ai baschi. L'artista dichiarò solennemente, se il presidente Aguirre lo richiede, il dipinto è dei baschi, ma il presidente basco fece sapere di non essere affatto interessato all'opera. Del resto, un artista basco ne parlò così, come opera d'arte è una delle più scadenti mai realizzate al mondo, sono 7 metri per 3 di pura pornografia che gettano merda su Garnica. Troppo moderna, troppo pessimista, ma insomma Picasso si è anche fatto pagare dal governo repubblicano quasi 200.000 franchi, pagati direttamente all'artista, che generalmente invece consegnava le opere al suo mercante di fiducia, Paul Rosenberg, che però a expo terminata sarà determinante per il successo dell'opera di Picasso. Organizzerà infatti una vera e propria tournée in varie città, assieme ad opere di Matisse, Brack, Lawrence, a Oslo, Copenhagen, Stoccolma, Gothenburg e anche Londra, intanto la guerra civile spagnola proseguiva Franco alla meglio. Picasso decide quindi che la sua opera non dovrà mai e poi mai tornare in Spagna, non in quella Spagna che lui non vuole riconoscere. L'opera viene quindi spedita in America, anche per sollecitare una raccolta fondi a favore delle vittime innocenti della guerra civile e finirà proprio al MoMA di New York, su richiesta dell'artista, fino a quando la democrazia non sarebbe tornata ufficiale, insomma fino alla disfatta di Franco. Il giro del mondo prosegue comunque fino agli anni 50, passerà anche per Milano e nel 1968 Francisco Franco farà esplicita richiesta per riavere l'opera di Picasso, ma è Picasso stesso a rifiutare. Morti entrambi, l'artista nel 73 e il generale nel 75, la Spagna diventa una monarchia costituzionale e democratica. L'opera quindi dovrebbe e potrebbe tornare in Spagna, ma il MoMA non la molla mica. Forte anche del volere dell'artista che aveva immaginato il ritorno di Garnica in patria solo con l'avvento della Repubblica, cosa che effettivamente non è mai avvenuta. Però nel 1981 anche il MoMA cede e spedisce l'opera, prima al Prado e poi al Museo Reina Sofia di Madrid, proprio obbligato da quella cifra pagata a suo tempo dal governo spagnolo che ne soncisce pubblicamente la proprietà. Ma perché Garnica è tanto famosa ed importante? Per un mix di citazioni, a volte evidenti, a volte più velate. È immensa, opera di un artista spagnolo per la Spagna. Il rimando diretto quindi sono le pitture rupestri di Altamira e i volti di profilo come nei ritratti romani e rinascimentali. Ricordiamo poi che l'opera va letta da destra a sinistra, perché quello sarebbe stato il percorso dei visitatori dell'Expo di Parigi che si sarebbero trovati di fronte a un percorso di quasi 8 metri per 3 metri e mezzo di altezza. Non c'è un unico punto di vista, perché nel cubismo la realtà ne mostra molteplici contemporaneamente. E quindi al centro, in alto, cos'è? È un occhio, magari di Dio? O una sorta di corona di spine? Magari un lampadario? Oppure un sole? Ma quindi siamo dentro o fuori dalle abitazioni distrutte? Addirittura stanno ancora andando a fuoco, come nell'incendio di Borgo di Raffaello. E non dimentichiamoci poi che in spagnolo la lampadina elettrica si chiama Bombia, quasi un diminutivo di bomba, un tragico gioco di parole. Il richiamo diretto alla Spagna lo troviamo immediatamente nel toro in alto a sinistra, che è anche simbolo di sacrificio nella corrida, mentre il cavallo al centro del dipinto è più che imbizzarrito, è folle di terrore, pare quasi avere una bomba che gli esce dalla bocca. L'atmosfera è nell'insieme quella concitata e drammatica del Massacro degli Innocenti di Guidoreni e anche del 3 maggio di Goya. Ma è anche un'opera profondamente religiosa, dove il riferimento diretto è alla pietà di Michelangelo dalla fine del 1400, anche se qui la madre che tiene in braccio il figlio morto è una donna comune, ugualmente sofferente. Posso anche andare avanti, eh? Vi ricordate la libertà che guida il popolo in battaglia di Delacroix? Vi ricorda nulla qui la donna che tiene in mano la fiaccola, questa lampada a olio che potrebbe anche essere un richiamo a ritrovare il lume della ragione, oppure a combattere sotto una giusta causa. Chissà. L'opera è in bianco, nero, grigio, quasi un monocromo. Fino all'ultimo Picasso si chiese anche se non fosse il caso di mettere da qualche parte un punto di colore. Ma dove? C'è anche un po' di prova attaccando quella a un foglietto rosso sangue. Ma nulla da fare. La morte non ha colore. E poi la notizia della strage era stata riportata dai quotidiani con fotografie in bianco e nero. Picasso lavora quindi furiosamente su quei ricordi, usando anche i fogli di giornale come tavolozze, riportando quasi una sorta di carattere di stampa nella parte bassa centrale del dipinto. Sempre in basso, al centro, il guerriero con la lama spezzata ha anche in mano l'unico punto quasi positivo, diciamo così, dell'opera, un fiore sbocciato. La speranza, in pratica. Quella stessa speranza che non sembra però avere la stessa fortuna nella rappresentazione della colomba, in alto a sinistra. Simbolo di pace, sì, ma qui con un'ala rotta. Se la genesi di quest'opera non è sicuramente stata serena e lineare, ora abbiamo anche la certezza che, a distanza di anni, non ha poi avuto una vita espositiva altrettanto serena. Le polemiche per lo spostamento dall'America alla Spagna non erano ancora cessate, che l'ulteriore trasferimento dalla Dependance del Museo del Prado, dove Picasso aveva scritto di voler esporre Guernica al modernissimo museo a pochi centinaia di metri di distanza, al Museo Raina Sofia, ne sollevava comunque nuove polemiche, perché molti ora lavorrebbero addirittura come simbolo dei Paesi Baschi e quindi esposta nel nuovo Museo Guggenheim di Bilbao. Insomma, non ha pace, curiosità nella curiosità. Pensate che una copia eseguita da Razzo nel 1955 viene posta nel 1985 nella sede ONU di New York. Per errore, nel sito ufficiale ONU, l'opera verrà poi descritta come denuncia dei crimini dei repubblicani, anziché di quella dei nazifascisti. Insomma, è proprio... non gliene va bene una, ecco. La Razzo, realizzata direttamente sotto la supervisione di Picasso, è di proprietà della famiglia Rockefeller, ma anche qui ha avuto qualche problemino. Negli anni in cui si discuteva della guerra in Iraq, i vertici ONU fecero ricoprire la Razzo da un drappo blu. Effettivamente non era molto opportuno parlare di guerra, con l'orrore della guerra rappresentato così bene alle loro spalle. Nel 2021 i Rockefeller ritirano la Razzo e quella parete rimane desolatamente vuota in cerca di un nuovo illustre ospite. Cosa metteranno? Panico. E invece pare che ci sia già stato il dietrofronte, perché la Razzo a inizio 2022 con le tensioni fra Ucraina e Russia è tornato nella sede ONU, proprio per ricordare a tutti gli orrori della guerra di tutte le guerre, ma sarà solo un prestito. Nella volontà dei proprietari dovrebbe partire per un tour, come fece appunto all'epoca negli anni 50. Per ricordare a tutti gli orrori della guerra e quanto sia giusto evitare ogni tipo di guerra, ovviamente non solo quella di Garnica. a tutti gli orrori della guerra 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 a tutti gli orrori della guerra